Oggi siamo qui per parlare di obiettivi, obiettivi stabilizzati e obiettivi non stabilizzati. In particolare andrò a raccontarvi qual è la mia personale esperienza e se preferisco optare per una lente stabilizzata o per una lente non stabilizzata andando a esaminare i pro e i contro di entrambe le tecnologie. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e oggi voglio andare a rispondere a una domanda che mi è stata fatta nei commenti da uno di voi e colgo anche l'occasione per ricordarvi che se vi iscrivete al canale rimanete sempre aggiornati su temi di interesse per tutto quello che riguarda il mondo della fotografia e del videomaking, la domanda in particolare era, riguardava il mondo Canon, la domanda era è meglio il 24-70 f2.8 senza stabilizzatore o il 24-70 esattamente la stessa lente però f4 con lo stabilizzatore? Andiamo a prendere proprio questo caso specifico perché ci aiuta molto la base di partenza che è la stessa identica lente, quindi noi abbiamo la stessa lunghezza focale, la stessa casa produttrice, è anche sempre serie L, quindi ha più o meno la stessa qualità, la stessa costruzione, è sostanzialmente la stessa lente con la sola differenza che una delle due è stabilizzata e poi vabbè c'è una differenza di apertura massima ovviamente. Ovviamente c'è anche dietro un po' un gioco da parte della casa produttrice perché noi abbiamo l'ottica f2.8 che volendo ha una qualità un pochino superiore, ha dei vantaggi assolutamente palesi, il fatto di poter incamerare più luce, di avere un diaframma più ampio ci permette sia di avere uno sfocato più bello, sia di lavorare in condizioni di illuminazione inferiore. La versione stabilizzata però non è tutta da buttare via, perché anche se parte da f4, quindi parte con un diaframma che già di base è più chiuso, quindi entrerà meno luce, avremo più difficoltà a sfocare lo sfondo, avremo più difficoltà a lavorare in un contesto di luce difficile, però ha lo stabilizzatore. Per cui a parer mio noi non dobbiamo ragionare in termini di una lente è meglio, l'altra è peggio, noi dobbiamo ragionare in termini di quale delle due soddisfa i miei bisogni, perché i bisogni possono essere diversi e attenzione bene, è possibile che vi servano entrambe, perché può succedere anche questo. Io per esempio ho sia il 24-70 f2.8 che il 24-105 f4, li uso tutte e due e li uso per cose molto diverse, quindi capite bene che la domanda quale dei due devo comprare non è di facile soluzione, perché a seconda di quello che facciamo può essere che ce ne serva una, e in quel caso è facile, si va su una delle due, ma può essere che ci servano tutte e due e li sono dolori perché dobbiamo comprarcele entrambe. Andiamo a cercare di capire a che cosa può servire un'ottica e a che cosa può servire l'altra. Partiamo dal 24-70 f2.8, stiamo parlando di un'ottica che è più rivolta al fotografo, infatti essendo priva dello stabilizzatore è meno adatta a fare video, perlomeno video a mano libera, se poi stiamo ragionando su fare cinema, quindi mettere la camera su una rotaia, avere tutto un setup, un rig, determinate cose, si può fare video benissimo anche con un'ottica priva di stabilizzatore, è ben inteso. Però nativamente l'ottica non è pensata tanto per fare video, è pensata più per fare fotografia. Fotografia di qualità, magari fotografia di reportage o di cerimonia con quell'apertura di f2.8 ci permette di lavorare anche con un'illuminazione non proprio ottimale e questo è un grosso vantaggio. Ora, se da un lato la costruzione dell'f2.8 è magari più pregevole perché ci consente un'apertura maggiore, dall'altro lato però abbiamo un'ottica che è dotata di uno stabilizzatore. Lo stabilizzatore è una componente che solitamente tira sui prezzi, quindi parlando in ambito generico è molto probabile che quando andiamo a comparare un'ottica con una buona apertura e un'ottica stabilizzata, alla fine andiamo a pagare due cifre simili, perché le due ottiche non sono in diretta competizione l'una con l'altra, attenzione, se stiamo parlando di un mercato fatto da professionisti o amatori evoluti che sanno quello che stanno comprando. Ovviamente per un amatore totale, amatore totale legge 24-70 e giustamente non sa quale dei due prendere, anche perché magari non c'è tutta questa differenza di prezzo tra le due, e da qui giustamente scaturisce la domanda a cui cerchiamo di rispondere oggi. Come dicevamo, nel momento in cui ci rivolgiamo all'ottica da f4 stabilizzata, il prezzo potrebbe non essere inferiore, perché nonostante abbia un diaframma più chiuso e quindi la ricerca e sviluppo della casa non è stata così invasiva come nel caso dell'f2.8, qui hanno fatto un'ottica con un'apertura scarsa, diciamocelo, l'f4 non è un'ottica veloce, non è una bella apertura, però è stabilizzata e quindi il prezzo potrebbe non essere tanto più basso perché serve semplicemente un mercato diverso. Infatti nel caso dell'f2.8 noi andiamo su fotografia, diciamo, di qualità. Se stiamo parlando dell'f2.8 di serie L per Canon o comunque della serie, diciamo, professionale anche per altre case, stiamo andando sul mercato professionale per quanto riguarda le foto, quindi foto di reportage, fotogiornalismo, cerimonie, battesimi, matrimoni, tutto quell'ambaradan lì. Nel momento in cui andiamo invece sull'f4, in certi casi può costare di meno, quindi può sembrare che sia un'ottica meno professionale che non sia rivolta ai professionisti, in realtà si rivolge semplicemente a una tipologia diversa di professionista. In particolare le ottiche da f4, a parer mio, si rivolgono da un lato ai professionisti che fanno video. Nel mio caso, per esempio, io uso tantissime ottiche da f4 o anche superiori per fare video. In questo momento io sto utilizzando un'ottica che fa f4, f7.1. Un'altra ottica che uso tantissimo è il 14-35, anch'essa da f4 stabilizzata. Quindi le ottiche da f4 stabilizzate vengono progettate così perché solitamente servono un tipo di professionista o di amatore, se le compra un amatore, servono un tipo di operatore che da un lato può fare a meno dell'f2.8 e dall'altro lato preferisce invece avere la stabilizzazione. Quindi è un compromesso. Nel momento in cui stiamo facendo fotografia con poca luce è molto meglio avere l'f2.8. Questo perché? Non dobbiamo essere tratti in inganno dal fatto che lo stabilizzatore stabilizza quello che noi stiamo facendo. Vi spiego perché. Con un'ottica da f2.8 io posso scattare in un ambiente con poca luce, ok? Perché ho un diaframma più aperto e quindi posso far entrare più luce e scattare anche in un ambiente con poca luminosità. Se io viceversa sto scattando con un f4 significa che uno dei miei parametri, il diaframma, è stato spostato ed è fisso. Io con un f4 non posso scattare f2.8 e questo significa che dovrò per forza di cose alzare i valori ISO o diminuire i tempi di scatto. Questo che cosa significa? Da un lato significa che aumentando gli ISO perderò della gamma dinamica e avrò magari del rumore che potevo evitare se solo avessi avuto l'f2.8. Dall'altro lato uno potrebbe essere portato a pensare e funziona, e badate bene, uno potrebbe essere portato a dire va bene, ho l'f4, quindi sono un po' in deficit di luce, ma io che cosa faccio? Attenzione, gli ISO li lascio dove stavano. Magari stavo lavorando a ISO 100 con l'f2.8, lavoro a ISO 100 anche con l'f4, però che cosa faccio? Dilato i tempi di scatto perché ho uno stabilizzatore che mi permette di scattare con dei tempi di posa più lunghi. E questo è giusto, attenzione, è giusto, non è sbagliato, questo è quello che faccio io quando scatto in bassa luminosità col 14.35. Quindi per tenere gli ISO più bassi possibile, ovviamente senza incorrere nel micromosso, ma conosco i miei limiti, quindi so fin dove posso andare, per tenere gli ISO bassi o per tenere il diaframma chiuso, perché ho spesso e volentieri scatto F8, per tenere gli altri parametri come li voglio, io posso permettermi di dilatare i tempi di scatto, perché tanto lo stabilizzatore mi permette di farlo. Con il 14.35 f4 io posso permettermi di scattare a un quindicesimo di secondo a mano libera, è tantissimo un quindicesimo di secondo, con le ottiche non stabilizzate non ce la faccio. Con quest'ottica riesco a scattare a un quindicesimo di secondo, che è veramente tanto tempo, però questo lo posso fare solamente se sto scattando un soggetto statico, perché se io sto scattando un soggetto statico, fate finta un'architettura o sto facendo foto di interni, il mio soggetto statico sta fermo e quindi io sto abbastanza fermo da catturarlo, ma il mio soggetto a sua volta sta abbastanza fermo da essere catturato, è tutta lì la chiave. Se viceversa il mio soggetto si muovesse, quindi se io stessi scattando a un quindicesimo di secondo una persona che si muove, perché le persone non stanno ferme, io sto facendo una sessione di ritratto o magari sto scattando una cerimonia, quindi gli sposi che fanno cose, che si danno il bacio o cose del genere, e sto scattando a un quindicesimo, verranno mossi. Lo sfondo sarà giusto, perché io sto fermo, so come fare e sto fermo, ma loro verranno mossi, perché in un quindicesimo di secondo il movimento viene catturato. Quindi ecco che con un f4 io non posso sempre cavarmela, in certi casi quando sto scattando soggetti in movimento mi conviene avere l'f2.8, ed ecco che qui abbiamo questa divisione molto netta. Se sto facendo fotografia in ambienti scuri, quindi foto giornalismo, foto di inchiesta, cerimonie, battesimi, matrimoni, soprattutto battesimi e matrimoni, perché sono quelli un pochettino più difficilotti dal punto di vista della luce, possiamo stare in chiese molto buie, quindi capita di aver bisogno di luce, però non possiamo espandere più di tanto i tempi di scatto, perché se no le persone vengono mosse. Quindi in quei casi ci serve assolutamente l'f2.8. Un altro caso in cui è meglio avere una grande apertura è per esempio quando si fotografano le stelle, la Via Lattea. Se io sto fotografando le stelle, alcuni parametri sono fissi, perché l'esposizione la dovrò fare in un certo modo, dovrò avere un'esposizione abbastanza lunga da far entrare un po' di luce, ma non così lunga da creare l'effetto ovale sulle stelle per il movimento apparente della Terra. Quindi dovrò trovare una via di mezzo, però quel parametro sarà fisso. Gli ISO pure saranno quasi fissi, perché è vero che li dovrò sparare a palla, però oltretot non posso andare. Quindi avere un diaframma aperto quando si fotografano le stelle è molto importante, perché se non ce l'abbiamo dobbiamo alzare gli ISO a dismisura. Se io fotografo le stelle con un f4, magari devo scattare con degli ISO espansi oltre 6400 e questo non è bene. L'ideale sarebbe scattare intorno a ISO 3200 quando si scatta la Via Lattea, così riusciamo ad avere un'immagine più o meno pulita, quanto più pulita possibile. Certo che se scattiamo a f4 dobbiamo sparare gli ISO a 6400 e l'immagine ne perde. Le cose cambiano radicalmente se stiamo facendo video però, per esempio, perché nel momento in cui facciamo video, nel mio caso per esempio, io uso spessissimo le lenti da f4 quando faccio video, le uso per due motivi. Il primo motivo è che quando io faccio video raramente utilizzo una grande apertura come f2.8, perché fare video con un'apertura come f2.8 significa essere sempre a rischio di una profondità di campo troppo sottile. Io faccio più fatica a mettere a fuoco il mio soggetto con una profondità di campo così risicata e quindi chiudo un pochino il diaframma. Quando faccio video spesso e volentieri sono in luce controllata, quindi non mi serve avere f2.8 perché posso gestire l'illuminazione. Addirittura mi capita spesso, anche quando faccio video o quando faccio foto di interni, mi capita di lavorare con dei diaframmi molto chiusi come magari f7.1 o addirittura f8 o f11. In quei casi avere un'ottica che mi permetta di scattare a f2.8 non mi serve se tanto la uso con un'apertura molto minore. Quindi in certi casi io posso permettermi di scartare l'ottica da f2.8 che potrebbe anche costare di più in certi casi per andare sulla non sempre ma a volte più economica ottica stabilizzata da f4. Questo potrebbe essere un aiutino per cercare di capire dove orientare la nostra scelta. Bisogna capire che cosa ci serve, bisogna capire che cosa facciamo. Perché se facciamo fotografia con luci scarse sicuramente l'f2.8 è meglio. Tenete anche conto che l'f2.8 usato a f2.8 ci darà più luce ma usato a f4 probabilmente darà un risultato migliore con meno aberrazioni cromatiche con una nitidezza migliore rispetto alla lente da f4 usata a f4. Di solito le ottiche non performano mai benissimo alla massima apertura. Quindi se noi abbiamo l'f2.8 e lo usiamo a f4 probabilmente abbiamo un risultato migliore che non usando l'f4 a f4. Se invece scattiamo a f8 probabilmente arrivano a equivalersi. Quindi dipende sempre da cosa vogliamo fare. Quello che vi dicevo prima è che purtroppo capita a volte nella vita che ci servano tutte e due. Perché magari dobbiamo fare sia le foto sia i video a una cerimonia e quindi viene molto comodo sia splittare le due cose. Quindi avere un corpo macchina per le foto e un corpo macchina per i video. Dall'altro lato viene anche molto comodo avere due ottiche dedicate. Perché con un'ottica faccio le foto e so che le mie foto verranno nitide e verranno giuste e verranno con la luce giusta. Dall'altro lato fa molto comodo avere un'ottica con cui so che posso permettermi di fare una carrellata senza avere quell'effetto shakerato delle ottiche prive di stabilizzazione. Quindi la domanda quale delle due è meglio per me purtroppo dipende unicamente da quello che dobbiamo farci. Se dobbiamo farne un uso generico fotografico me la sento di dirvi che vanno bene entrambe. Vanno bene entrambe per un uso generico. Se dobbiamo farne un uso specifico potrebbe essere meglio l'f2.8. Se invece dobbiamo fare video quasi certamente è meglio l'f4 stabilizzato. A questo punto vi chiedo come sempre fatemi sapere nei commenti se avete una o tutte e due queste tipologie di ottiche. Come vi trovate? Quale preferite? Quale avete pagato di più? E se siete d'accordo con la mia visione in quanto concerne separare le ottiche per fotografia e le ottiche per video. Questo non significa che non possono essere sovrapponibili per certi ambiti però ognuna delle due è stata pensata per un utilizzo piuttosto che per l'altro e quindi andare a fare l'utilizzo errato di un'ottica può sì portare dei buoni risultati ma ci fa fare più fatica. A questo punto vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto perché se siete arrivati fin qui sicuramente avrete imparato qualcosa di utile. Vi ricordo anche che io rispondo spesso ai vostri commenti con dei contenuti shorts in cui vado a dare delle spiegazioni ulteriori, fare qualche focus, qualche approfondimento. Quindi quelli che si iscrivono adesso non rischiano di perdersi questi contenuti. Signori è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video.